e c'è più alto dell'altra ma non è vero guardatevi non è qua come l'hai? no io lo metti qua perchè stava studiando che nuovi mamma mia no ti già sta bene un po' davanti aspetta Sara, aspetta aspetta ti fai avanti ti fai avanti una volta che fai avanti non ti fai male tu vai avanti una volta che fai avanti ti fai avanti allora butta indietro se te le vai un po' più indietro butta avanti ti devi buttare con la testa avanti e tenere indietro non c'ho paura ma è cagetta tu fai avanti con la città domani lui vido ma non ti tenere io so le mani non ti devi tenere non ti devi tenere tu le metti sopra al piattello o così mani così hai fatto lo spavano una settimana che si deve fare sai tranquillo scusate, scusate intorno, silenzio lui ha bisogno di silenzio non ti temere, ti fai male oh non è brava, non sono brava, non sono brava non è brava, non è brava non è brava, non è brava non è brava non è brava non è brava perfetto, come è? dai, scusate, non ti tenere mettiti così mettiti così non lo facciamo mani così ok, perfetto stai perfetto le mani in avanti dai, scusate dai, scusa dai, scusa dai, scusa dai, scusa dai, scusa no, 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 no si, scusa, per favore mamma mia, guarda una cosa ma hai paura dell'acqua fredda che stiscai dai dai grazie